La natura umana è fascinata da cose che uno non può avere, inoltre i carri presidenziali, obiettivi esclusivi, per definizione. Nel questo giorno e tempo la protezione è molto più importante che il stile, excepto per l'Italia, dove il Presidente Limo è un lontano che ha prodotto la stessa protezione ballistica dei ravioli. Ancora la Flaminia 335 deve sicuramente essere la più elegante...